Poi, per chiudere il filmato, basta cliccare sul rosso. Erano anni che desideravo questo momento ed è venuto il 7 agosto 2014, 34 anni di nozze, di matrimonio. E sempre col vento di traverso, quasi in poppa, il miglior vento. Puoi andare di polina. Sì. No, no, va bene. Ok. No, no, va bene. No, va bene.